Il nuovo numero della rivista Caritas Insieme ha un articolo che riporta quello che probabilmente speriamo sia stato un momento di svolta importante nella questione droga. Si tratta della prima pagina dell'Independent on Sunday, un famoso quotidiano con la sua edizione domenicale inglese, che il 18 marzo ha chiesto pubblicamente scusa. Nelle mie spalle vedete il titolo, cioè Marijuana, le scuse. Questo giornale dieci anni fa, nel 1997, lanciò la campagna per la depenalizzazione della marijuana con un grande successo, con una grande partecipazione. A dieci anni si scusa con il suo pubblico inglese. Ci auguriamo che siano sincere queste scuse perché un po' di sospetti che siano legate al fatto che quasi contemporaneamente è uscito uno studio scientifico che mette in risalto l'aumento incredibile di malattie psichiatriche in conseguenza dell'uso della marijuana. Speriamo di no, comunque meglio tardi che mai e meglio di niente. L'occhiello di uno degli articoli dell'Independent on Sunday dice se avessimo saputo quello che adesso possiamo rivelare. Facendo riferimento, ciò che spiegano in lungo e in largo in diversi articoli, la marijuana attuale, il cosiddetto skunk, ha 25 volte il valore di THC della marijuana che si consumava negli anni 70. In uno degli articoli che l'Independent on Sunday ha pubblicato il 18 marzo scorso. Lo psichiatra Robin Murray titola il suo articolo con la questione è la schizofrenia degli adolescenti e non la legalità. Evidentemente molti queste cose le hanno dette per anni e non sono stati ascoltati o comunque poco ascoltati e spesso derisi e non solo in Inghilterra. Caritas Insieme tre anni fa aveva proposto i contributi di alcuni specialisti, in particolare due psichiatri Silvano Testa e Graziano Martignoni e una ricercatrice dell'Università dell'Insubria, Daniela Parolaro, che era in studio con noi. Ve li riproponiamo e chiudiamo questa panoramica con la dodicesima puntata della serie pillole di psichiatria con lo psichiatra Michele Tomamichel dedicata alla questione della dipendenza. Non è vero che la canapa consumata con una certa frequenza a certi dosaggi non crei fenomeni di dipendenza. Noi ci troviamo confrontati con dei giovani che non riescono a smettere proprio anche per quello che sono i sintomi che compaiono ogni qualvolta cercano di farlo. La canapa viene venduta se vogliamo come droga ricreativa, come un qualcosa che si fuma insieme, che si fuma in occasioni ludiche, in occasione di un incontro, di una festa o quant'altro ancora. Ebbene sempre più spesso noi ci troviamo confrontati con dei giovani che hanno un uso quotidiano, smodato, di diverse canne al giorno. È difficile entrare nel merito di cosa rappresenti effettivamente come dosaggio, come quantità inalata, visto che ogni canna ha una concentrazione di tetraidrocannabinolo così diverso che bisognerebbe in fondo fare delle analisi a ripetizione che non ci direbbero molto di più. Non ci direbbero molto di più perché quello che colpisce in questi giovani è il fatto magari di già cominciare al mattino presto, prima di andare a scuola, di avere un consumo solitario, mentre nella logica ricreativa è proprio nell'essere insieme che si fa girare lo spinello. Ebbene in questi giovani abbiamo invece questo consumo reiterato, quotidiano, che alla lunga può avere delle ripercussioni psicopatologiche importanti. C'è un aumento di giovani, sempre più giovani ricoverati per un disturbo di tipo psichiatrico maggiore. Ogni anno abbiamo una ventina almeno di minorenni che vengono ospedalizzati da noi, di cui direi più o meno la metà presentano un disturbo psichiatrico maggiore di tipo schizofrenico, delirante e allucinatorio. Una volta si diceva che era impensabile, che sicuramente la schizofrenia è una patologia che emerge in giovane età, ma vent'anni fa si parlava dei 18-20 anni per gli uomini, dei 20-25 anni per le donne come età di esordio. Oggi ne possiamo veramente togliere tre o quattro per un numero sempre crescente di giovani. Ancora una volta sono dei giovani che poi quando entrano ammettono, sia pure a fatica perché non se ne rendono conto, lo minimizzano, ammettono questo genere di consumo. Abbiamo pensato per molti anni all'innocenza della canapa o almeno alla sua neutralità. eravamo molto impegnati nel ragionare sulle droghe cosiddette più pesanti, penso questo dagli anni 70 in su e abbiamo in qualche modo spinto un po' sul retro bottega delle nostre preoccupazioni intorno alla dipendenza o alla tossicodipendenza. Questo fenomeno che è tornato oggi di grande importanza. Accanto a coloro che ne hanno sempre in qualche modo lodato questi aspetti di ampliamento delle capacità sensoriali, delle esperienze sensoriali, delle esperienze di sé, ci sono però poi sempre stati forse un po' inascoltati coloro che fin dal Baudelaire della metà dell'Ottocento ci rendeva attenti, per esempio che nessun Stato potrebbe sopravvivere permettendo l'uso dell'Hashish perché diceva lui l'Hashish non permette di essere né cittadini né guerrieri, quindi pur traducendo queste parole evidentemente aveva la percezione in un'epoca naturalmente tanto diversa dalla nostra che attraverso questa sostanza non si poteva essere cittadini perché in qualche modo il contesto sociale diventava più opaco, più lontano, il contesto sociale con tutto quello che comporta di bene e di male e nemmeno guerrieri e la parola guerrieri bisogna leggerla bene, non si tratta di guerrieri con le armi impugno ma semplicemente di persone in grado di far fronte con forza e con coraggio alle difficoltà della vita. Abbiamo osservato negli ultimi anni una fondamentale differenza rispetto allo spinello che poteva girare 20 o 25 anni fa e cioè un progressivo aumento delle concentrazioni di THC nello spinello, quindi nella marijuana, nell'Hashish e anche nell'olio di Ashish che una volta diciamo in Europa era poco usato, l'olio di Ashish è una successiva purificazione dell'Ashish che porta a un'ulteriore concentrazione del THC. Questo fa sì che i consumatori di marijuana in questo periodo siano esposti a concentrazioni di THC molto più elevate di quelle di una volta e se è vero che non possiamo, come diceva mi sembra il dottor Testa, pensare di analizzare tutti gli spinelli per sapere quanto THC è contenuto, dall'altra parte è anche vero che questi contenuti sono mediamente più elevati di quelli di una volta. Per dare un'idea quantitativa, se una volta in uno spinello c'era circa il 7% di THC, adesso arriviamo tranquillamente al 15, in alcuni casi, e sono dati effettuati su sequestri, possiamo arrivare anche al 25%. Quando noi scientificamente vogliamo definire una droga come una droga che dà dipendenza, cosa guardiamo? Consideriamo che siano soddisfatti almeno tre parametri, cioè che questa sostanza dia tolleranza e quindi ci sia la necessità di aumentare la dose per ottenere l'effetto, che dia dipendenza fisica e quindi quando il consumatore si trova in assenza di droga avverte una serie di effetti fisici sgradevoli generalmente e che compaia la pulsione verso la droga, cioè il desiderio psicologico di procurarsi la droga. Fino a 20 anni fa c'erano pochi report sicuri per definire la marijuana e la canapa in senso generale come una sostanza che dà dipendenza, ma adesso pian piano, con l'aumentare delle osservazioni, con una maggiore accuratezza scientifica nelle osservazioni, possiamo tranquillamente dire che la canapa è una sostanza che dà dipendenza. Assistiamo a questi ragazzi che fumano sempre più spinelli ogni giorno per ottenere l'effetto, assistiamo alla comparsa di una sindrome astinenziale che ovviamente non è grave come quella degli opioidi, dell'eroina o della cocaina, ma che comunque si manifesta con irrequietezza, mancanza di sonno, una certa aggressività, una certa apatia verso il mondo esterno e quindi una serie di segni che pongono l'individuo in uno stato di sconforto, cioè irrequieto, non dorme, ansioso, tutto quello che non si ha, viceversa quando si fuma o quando si sta bene. E assistiamo anche al fenomeno della dipendenza psicologica. Questi ragazzi cercano lo spinello, lo cercano volontariamente, ne fanno, non dico una ragione di vita, ma uno dei grossi, dei momenti più importanti della loro vita. Oserei dire che anche tutti gli organi che sono devoluti a valutare a livello umano la presenza di dipendenza sono d'accordo, la canapa dà dipendenza. E poi vorrei anche dire che la tossicità della canapa, che noi tendiamo a vedere soltanto magari a livello del sistema nervoso centrale, va in realtà estesa anche ad altri organi, ad altri distretti. Quando abbiamo scoperto nel 1990 la presenza nel nostro sistema nervoso centrale di, diciamo, piccole molecole sui nostri neuroni, che erano quelle che legavano il THC e che quindi alteravano poi il funzionamento delle nostre cellule, abbiamo anche scoperto pochi anni dopo che esistono delle proteine simili anche in altri distretti, anche in periferia, ad esempio sul sistema immunitario. Una continua esposizione ai cannabinoidi ha degli effetti anche sul sistema immunitario, degli effetti che sono immunodepressivi e quindi questo aumenta il rischio di infezioni, aumenta il rischio di rispondere, di avere un sistema immunitario compromesso e che quindi non risponde bene agli insulti che normalmente potrebbe, potrebbe diciamo, superare. E anche questa è un'altra cosa che fa un parallelismo con altre droghe, perché anche gli opioidi, anche la morfina, anche la cocaina agiscono sul sistema nervoso centrale e deprimono il sistema immunitario. Quindi anche questa è un'altra, diciamo, simiglianza tra i derivati della canapa e quello di droghe più pesanti. Il rischio poi che mi preme anche sottolineare da donna è il rischio dell'assunzione, diciamo, di grossi quantitativi di canapa in gravidanza che spesso porta alla nascita di bambini sotto peso che non sembrano avere perlomeno nei primi anni della loro vita nessun deficit cognitivo, ma che viceversa quando arrivano all'età dell'adolescenza spesso sviluppano delle difficoltà di concentrazione, della difficoltà di stare a lungo su un problema e questo è stato fatto con degli studi ben fatti, devo dire, in Canada, sottoponendo una serie di test psicologici questi ragazzi che erano nati da madri consumatrici, forti consumatrici di canapa. Questo ribadisco spesso, fumatrici, forti fumatrici, per non confondere, perché una serie di dati sono estremamente veri quando il consumo è abbastanza sostenuto. Spesso noi troviamo, dicevamo, 4-5 sigarette al giorno, ma alle volte possiamo arrivare anche a dei livelli più alti, più elevati. Quindi anche le donne in gravidanza sono senz'altro una categoria a rischio. La droga, soprattutto quella che fu chiamata la droga dei fiori, legata ai movimenti hippie, eccetera, aveva una grande, come dire, propulsione ideale. Era vestita. Io non voglio dire che quella droga fosse meno dannosa di quella di oggi, perché la sostanza è la sostanza. Però, come tutte le cose della vita, vede, quando una cosa anche cattiva, velenosa, come ho detto, è vestita di simbolo, che tradotto in modo molto semplice, è vestita di ideali, è vestita di sguardi che vanno oltre, diventa un po' meno dannosa, perché in qualche modo dà senso a quello che tu fai. E dunque abbiamo avuto ragazzi che sono morti di droga in quelle epoche. Però la loro vita, visto che parliamo della vita, la loro vita, anche attraverso queste sostanze, non aveva mai perso questa, come dire, questa sorta di trascendenza. La trascendenza che era sulla strada alla Kerouac, on the road, la trascendenza che poteva essere alla ricerca, alla ricerca degli abitatori dei cieli, o alla trascendenza che ti portava al di fuori della realtà sociale per immaginare una società diversa. Questa spinta alla trascendenza. Quindi, in qualche modo, se mi permette, questa religiosità, niente a che fare con la religione, questa religiosità che animava quegli anni. Furono anni in cui dissacravamo magari la religione, ma che erano di una carica di religiosità umana, esistenziale, politica, creativa, potentissima. Allora avere quella droga era un'altra cosa. Quella droga sul piano antropologico, non sul piano biologico, ma sul piano antropologico e psicologico, era un'altra cosa. Quello che è avvenuto dopo è stata una progressiva banalizzazione, un progressivo svuotamento, una progressiva in qualche modo, impoverimento dell'area immaginaria. Il grande salto è avvenuto, credo, una decina d'anni fa, se possiamo dire, attorno agli anni 80, 80-90, dove evidentemente la progressivo svuotamento dell'immaginario e la sua sostituzione sempre più potente nel tecnoimmaginario ha cambiato anche, in qualche modo, la posizione delle droghe. E in sé queste droghe sono diventate delle droghe della pura banalizzazione, delle droghe energetiche. Ecco, allora se posso riassumerlo, so che è riduttivo, dovrebbe fare un discorso più complessivo, ma è più complesso, ma le droghe da droghe dell'immaginario, buone, cattive, ma dell'immaginario, della fantasia, del sogno, sono diventate progressivamente le droghe dell'energia, le droghe dell'economia del mio corpo, come se il primato dell'economico non fosse soltanto nella società, ma dominasse persino il mio corpo, il mio corpo psicofisico. Il problema dell'uso di sostanze al di fuori del consumo di alcol è una realtà ormai stabilizzata, purtroppo questo termine non è bello, ma abbiamo costantemente una percentuale di giovani che fanno consumo di sostanze non solo alcoliche, ma di altro tipo. A volte questa esperienza è transitoria, bisogna riconoscere che c'è questa possibilità, a volte, ed è sempre troppo queste volte, anche se sono poche, sono sempre troppe, abbiamo delle persone che da questa esperienza non escono, che altri magari la superano e riescono a ritornare ad una vita normale, per altri questo non avviene. È chiaro che esiste una vulnerabilità di base e anche oggi è sempre più evidente nella nostra esperienza che vi è un associarsi al problema della dipendenza di altri disturbi psichiatrici ancora più importanti, se vogliamo, che sono alla base, da un certo punto di vista, del consumo dell'alcol, l'angoscia, la depressione, l'ansia grave, viene a volte nascosta o viene combattuta, viene trattata inconsapevolmente con il consumo di sostanze stupefacenti che fungono da trattamento, tra virgolette, per la persona che ha l'impressione di star meglio, di non essere più depressa, di non essere più angosciata assumendo queste sostanze. La verità è che a monte c'è questo problema di un disturbo psichiatrico in giovane età che non viene riconosciuto e che viene autotrattato sotto forme che evidentemente non fanno che invece aggravare il problema. Quindi è una situazione complessa e di nuovo la famiglia in queste situazioni è sicuramente sorpresa perché si vede un giovane ragazzo, un adolescente che a poco a poco si trasforma, non è più quello che era prima e non si riesce più a colloquiare, non si riesce più a comprendere queste scelte. In questi casi l'intervento per la famiglia è determinante anche se molto difficile. Anche qui chiudere gli occhi come a volte si fa per il bene della famiglia per non creare più attriti in famiglia ha come effetto a medio e lungo termine quello di non più riuscire a parlarsi, di non più affrontare il problema. Quindi nonostante le difficoltà, la ricerca di un dialogo, la ricerca di una comprensione e anche la ricerca di limiti da porre sono un compito direi indispensabile per i familiari quando questo è possibile a dipendenza della struttura familiare. Il ricorso a istituzioni come le antenne presenti sul territorio, nel Ticino sia nel Sopra che nel Sottoceneri è senz'altro importante, è senz'altro un aiuto se non direttamente alla persona interessata, al giovane adolescente che magari in una fase iniziale non vuole assolutamente avvicinarsi a queste istituzioni può essere di grande aiuto per i familiari, poter sentire degli esperti che possono ascoltarli, che possono anche eventualmente dare dei consigli e entrare in una situazione di dialogo che può poi coinvolgere anche l'adolescente stesso. Una parte, come dicevo prima, di questi disturbi però segnalano un disturbo psichiatrico più serio che si manifesta progressivamente negli anni. Costatiamo una diminuzione importante di questi disturbi in fase giovanile che sono correlati con il consumo di sostanze e su questo occorre ancora meglio comprendere quello che sta succedendo. In modo per chiudere questa piccola riflessione sull'uso delle sostanze nei giovani, l'importanza è che la famiglia non tolleri queste situazioni, non tanto nel senso di una repressione, ma che non le toglie nel senso di non parlarne. Il fatto di cercare di parlare, di arrivare a comprendere e ad essere ascoltati è assolutamente importante e il ricorso anche a persone che sono esperte è altrettanto importante anche se per un periodo solo transitorio. Grazie a tutti.